Dopo settimane in cui si sono registrati pochi contagi, il bollettino dietro dell'ASREM non regala buone notizie. 18 le persone positive, 6 di Montenero di Bisaccia, 4 di San Salvo, 2 di Sennetta Venna, 1 di Vasto, Guardia Alfiera, San Martino in Pensilis e Campolieto. Un nuovo cluster a Montenero di Bisaccia, 14 positivi, già tutti vaccinati, ospiti di una casa di riposo, Villa Santa Maria. Non tutti sono residenti a Montenero, come si evince dal bollettino ASREM. E' già iniziato il tracciamento per risalire alla rete di eventuali contatti. La fonte del contagio, una persona risultata positiva che sta effettuando il tirocinio nella residenza per anziani. A seguito dei tamponi effettuati è emersa la positività al Covid. Nessun ricovero e nessun decesso nelle ultime 24 ore, mentre i guariti sono 9. Restano 8 le persone ricoverate nel reparto malattie infettive dell'ospedale Cardarelli. E intanto sulla situazione Covid in regione interviene il consigliere regionale segretario del PD Molise, Vittorino Facciolla. Tutte le regioni d'Italia diventano zona bianca, ha detto, ma nell'ultima settimana di monitoraggio, mentre tutte sono state considerate a basso rischio, il Molise no. Qui il rischio è moderato. Al di là di quanto venne sbandierato dal governo regionale tutti i giorni e con grandi sorrisi, non si fa nulla per prevenire una potenziale nuova ondata. Per Facciolla il Molise è l'unica regione a non fare il tracciamento e a non consentire ai turisti di vaccinarsi. Certo, aggiunge, l'ambia copertura vaccinale dovrebbe evitare i ricoveri, ma di questo non si può essere certi adesso che la variante Delta inizia ad essere presente anche nella nostra regione. Per il consigliere regionale del PD si corre dunque il rischio di vivere un'altra estate di tensione dal punto di vista sanitario, se si considerano altri problemi. La sospensione dell'attività ambulatoriale di chirurgia dovuta alla carenza di medici, il 118 in forte carenza di organico corrono per Facciolla 96 medici a fronte dei 56 attuali ed ancora la questione dell'eliporto dell'ospedale Cardarelli, che non può entrare in funzione per la presenza, come fatto rilevare dall'ANAC, l'ente nazionale aviazione civile, di alcuni pali della rete elettriche e di alcuni alberi. Facciolla conclude che bisogna augurarsi tanta salute ed auspica che il governo regionale possa concludere il suo corso il prima possibile.